Mi è piaciuto subito l'ambiente, è una mente molto grande, sembra che possa dare molti stimoli. Quello che mi aspetto è avere gli strumenti per poter mettere in pratica questa mia voglia di fare, anche nel campo della comunicazione. La prima impressione è stata direi molto positiva, non mi aspettavo una cosa del genere, una mente molto grande, però nonostante tutto mi sembra molto ben organizzato. Secondo me l'ambiente è una prima impressione ottimo. Mi sembra molto interessante, è anche ben organizzata e anche la struttura è molto bella e moderna. Sono già venuta l'anno scorso qui a vedere l'università e mi ha fatto una bellissima impressione. Sono tornata quest'anno a farlo vedere anche ai miei genitori. All'università si acquisisce lo spirito critico, la capacità di analisi e sintesi, si acquisisce la capacità di risolvere i problemi. In molti casi la visionarietà, la capacità di progettare si diventa davvero grandi. E quindi il mio invito prima di tutto, e lo dico ripeto da cittadino e da formatore, quale che sia la vostra scelta, ma credete nella formazione. Ti dà una parte la conoscenza culturale e teorica, dall'altra parte l'applicazione pratica. Pensare al proprio futuro e al mercato del lavoro di riferimento, non come a quello italiano, ma a quello del mondo tutto. L'università è un nuovo inizio. L'unica condizione fondamentale per voi è che abbiate una passione e una fortissima determinazione.